È stato un confronto molto proficuo, un clima molto cordiale, uno scambio molto utile. Si apre un cantiere, un cantiere dove prevarrà il dialogo, dove prevarrà un confronto costante per soluzioni comuni per il Paese. Abbiamo parlato anche delle urgenze attuali, dell'emergenza. Abbiamo parlato del piano vaccinale, della necessità di intervenire e sostenere famiglie, imprese e lavoratori. Siamo entrambi molto preoccupati per la prospettiva futura, rispetto alle tante difficoltà economiche che ci sono, sociali. Sarà importante ovviamente completare il recovery plan. Abbiamo parlato anche della prospettiva europea, in Europa si apre un capitolo importante con la conferenza sul futuro dell'Europa. Anche lì continueremo ad aggiornarci per poter rafforzare anche il contributo dell'Italia a questo importante passaggio che deve rendere la casa europea ancora più confortevole per i cittadini europei.